All'interno dell'Ulsuno Dolomiti un ruolo fondamentale è rivestito dalla cosiddetta farmacia dei servizi, che nasce nel 2009 e permette ai cittadini di usufruire di determinate prestazioni sanitarie gratuite direttamente nella farmacia di prossimità. Negli ultimi mesi sono state autorizzate nuove progettualità che vanno ad implementare la gamma dei servizi disponibili. La novità viene per la Regione Veneto con il decreto 15 del 15 maggio che autorizza nuovi progetti nell'ambito della farmacia dei servizi. Questi sono sostanzialmente l'identificazione dei pazienti con ipertensione e ipercolesterolemia non note, attività di counseling per migliorare l'aderenza terapeutica nell'ambito di patologie quali il diabete e la broncopneumopatia cronica ostruttiva e servizi di telemedicina. In particolar modo il decreto promuovo la telecardiologia. Un ultimo servizio è il servizio di televisita che richiede diciamo un forte coinvolgimento da parte delle aziende sanitarie e in Ulssuno Dolomiti siamo in una fase di valutazione per la partenza di questo eventuale progetto ulteriore insomma. Importante nel supporto e nell'implementazione della farmacia dei servizi è la collaborazione con l'ordine dei farmacisti di Belluno e Federfarma. Le farmacie collaborano tramite un progetto sperimentale che è stato stabilito dalla regione Veneto e ogni farmacia è libera di aderire al progetto. Chiaramente non tutti riescono ad aderire perché servono organizzazione, servono personale, servono spazi, servono risorse che non tutti hanno però confidiamo che col tempo, adesso siamo appena partiti, col tempo pian pianino possa essere sviluppato questo progetto, possa diventare da sperimentale a stabile ed essere applicato da tutte le farmacie del territorio. Abbiamo già dei dati molto importanti, ho visto che circa la metà delle farmacie presenti sul territorio che sono da 75 a 35 farmacie hanno aderito perché ricordiamo che su base volontaria e i primi risultati che ci sono arrivati a distanza di circa un mese sono abbastanza interessanti perché hanno dimostrato molto interesse da parte di cittadini soprattutto per quanto riguarda i servizi che riguardano lo screening dell'ipertensione e lo screening dell'ipercolesterolemia. Recentemente è stato attivato anche il progetto per il recupero di farmaci validi non scaduti attraverso il quale i cittadini potranno restituire o donare medicinali inutilizzati ponendoli in appositi contenitori distribuiti nelle sedi distrettuali e negli sportelli di distribuzione diretta di farmaci dell'ospedale.